Cosa ci può essere di più terribile di non poter far ascoltare la propria voce nel momento del bisogno? Essere bambini ma vivere ogni giorno avvolti da una nebbia di paura, sperare di ricevere un aiuto che finisca l'incubo in cui si è costretti ogni giorno, che la giustizia faccia il suo corso e alla fine non ottenere nulla e vedere i colpevoli liberi di colpire ancora. Questo è il terribile caso avvenuto in una scuola di studenti disabili in Corea. Per lo più sordi, tornata alla ribalta nel 2011 grazie a un film, Silenced Dogani in lingua originale, tratto dall'omonimo romanzo di Jin Yong Gong. Questo film dalle tinte forti del regista Hwang Dong-ya, quello di Skip Game per capirci. Racconta storie raccapriccianti che colpiscono allo stomaco come un pugno, con scene che probabilmente in Italia verrebbero quasi sicuramente censurate e in questo modo è riuscito a scuotere il grande pubblico coreano che ha iniziato a interessarsi a queste vicende, purtroppo realmente accadute. Grazie a ciò sono state riaperte le indagini su questi casi e altri casi inerenti alla scuola. Ho visto il film tratto da una storia vera che mi ha veramente scosso. Questa storia è veramente raccapricciante e il film che ho visto mi ha fatto veramente male e vi consiglierei la visione ma allo stesso modo ve la sconsiglio perché questo è un film di denuncia, un film forte che ha avuto un significato e grazie a questo film è cambiata la vita di molte persone e si è fatto in qualche modo giustizia o almeno così si è tentato di fare. Sono tristi vicende che è giusto raccontare secondo me per fare in modo che ciò non accada più. A partire dal 2000 alcuni dipendenti della scuola per bambini sordi in Korea, tra cui il preside, il direttore amministrativo e l'insegnante responsabile del dormitorio hanno abusato ripetutamente di alcuni bambini disabili. Nel giugno del 2005 un nuovo insegnante che non riusciva a sopportare queste brutalità ha denunciato il fatto all'ufficio per i diritti umani e da qui sono partite le indagini della polizia ma analizziamo a fondo la faccenda e partiamo dall'inizio. La scuola è stata aperta negli anni 50 e da allora ha ricevuto un continuo sostegno monetario da parte del governo ma la corruzione della scuola non è iniziata nel 2000 bensì molto tempo fa con varie accuse, sfruttamento di lavoro minorile, il fatto di aumentare il numero di studenti che frequentava la scuola al di sopra della capacità massima per ricevere più fondi monetari dal governo e la deplorevole abitudine di rivendere i beni donati che erano stati destinati alla scuola e agli studenti. Nel giugno del 2005 Chong decise di farsi avanti perché aveva ricevuto un'informazione sul fatto che alcuni insegnanti abusavano dei suoi studenti. Chong era lui stesso disabile e quindi utilizzava il linguaggio dei segni e per questo motivo era in grado di relazionarsi con gli studenti più di altri dato che molti membri del personale della scuola non lo conoscevano. Un giorno ricevette una telefonata da un genitore che affermava l'amica di mio figlio è stata maltrattata dal direttore amministrativo. Il signor Chong ovviamente scioccato decise di controllare. Parlò della questione prima con un'infermiera e poi con altri docenti ma la risposta era sempre la stessa. Dicevano di non saperne niente e che se per caso fossero venuti a conoscenza di qualcosa glielo avrebbero riferito ma poi nessuno disse più nulla in merito. Molti studenti che frequentavano il liceo erano orfani alcuni avevano genitori anch'essi disabili altri vivevano con i nonni altri ancora avevano un solo genitore quindi molti di questi studenti provenivano da ambienti non proprio agiato. La scuola inoltre aveva un dormitorio dove vivevano gli studenti orfani e quelli le cui famiglie vivevano lontani ed era l'unica scuola per disabili presente nella provincia perciò molti di questi giovani studenti non avevano altro posto dove potersi rifugiare. Quando in seguito intervistarono tutti gli studenti vennero alla luce verità scioccanti. Una ragazza disse che fin dall'elementare aveva subito violenza non solo dal direttore amministrativo ma anche dal preside, da altri insegnanti e i membri del personale. Per anni è rimasta inascoltata. Si sono fatti avanti anche diversi studenti dai 7 ai 22 anni descrivendo quello che gli era successo in passato quando erano bambini. A volte gli studenti venivano attirati nelle stanze degli insegnanti e del personale della scuola e costretti a guardare video per adulti. Era capitato anche che alcuni studenti avessero sorpreso l'amministratore capo a guardare video simili mentre si autocompiaceva. Non veniva fatta distinzione tra ragazzi e ragazze soprattutto se vivevano nei dormitori. Molte di queste cose accadevano di notte. Per questo motivo chi viveva lì era più a rischio. Un testimone racconta che durante la lezione di palegnameria l'insegnante aveva fatto guardare a tutti un film e nella stanza c'era un angolo praticamente nascosto dove aveva portato una sedia. In quell'angolo cieco aveva poi avvicinato una studentessa e aveva iniziato ad abusare di lei. Uno studente se ne era accorto e aveva detto all'insegnante di fermarsi ma questi lo minacciò dicendo che se lo avesse detto a qualcuno gli avrebbe fatti fuori entrambi. Un'altra studentessa disse di essere stata chiamata nella sala del personale per ricevere degli snack ma invece finì per subire la stessa sorte degli altri. Una studentessa è stata legata mani e piedi sempre in quella stanza dalla sera alla mattina per ben 15 ore ha subito violenza. C'erano studenti che accidentalmente divenivano testimoni di queste cose perché sentivano questi bambini che urlavano e piangevano ma questi testimoni venivano portati nella stanza del direttore amministrativo e minacciati e aggrediti fisicamente con una bottiglia di vetro o una mazza. Studenti che ricevevano un voto basso in un test invece di ricevere le classiche punizioni venivano costretti dall'insegnante a darle un bacio o molto peggio. La scena del film in cui la bambina viene immersa con la testa nella lavatrice mentre era accesa è una forma di tortura avvenuta realmente per aver raccontato ad altri insegnanti quello che le stava accadendo. Sapete che in Corea ma anche in Giappone gli studenti hanno il dovere di pulire le aule giusto? Mentre una studentessa era intenta a pulire l'aula si accorse della presenza di un professore che l'aveva seguita successivamente le si avvicinò chiedendo di fare cose da adulti con lui. Un'altra studentessa spiegò come di solito avveniva il fatto veniva trascinata in queste stanze all'improvviso l'insegnante chiudeva la porta la abbracciava da dietro e iniziava a fare pressione su di lei. Usando la lingua dei segni è difficile esprimersi al meglio in certe situazioni anche perché non tutto può essere tradotto e non solo per alcuni era difficile anche solo urlare e ottenere l'aiuto di cui avevano bisogno. Le uniche cose che questi studenti potevano fare erano cercare di esprimersi con il linguaggio dei segni e dimostrare con i movimenti delle mani che non volevano che queste cose accadessero. Ovviamente non volevano che queste cose accadessero loro ma era così difficile ottenere aiuto o dirlo a qualcuno in modo appropriato. Come viene mostrato nel film alcuni di questi insegnanti avevano pagato delle cifre ingenti di denaro per poter lavorare in una scuola. Anche per questo motivo non volevano essere licenziati. La situazione era peggiorata a tal punto che persino un autista di autobus aveva sentito parlare di questa storia e quando ne ha parlato con alcuni insegnanti lo hanno minacciato e hanno cercato di picchiare anche lui. E più questi studenti cercavano di fare qualcosa e più la situazione peggiorava. Il motivo per cui la cosa è potuta durare così a lungo è che le persone potenti che gestivano la scuola erano tutte imparentate tra loro. Per esempio il preside del liceo era il padre del preside e del capo amministrativo. Anche il capo degli studenti era un parente e così via. Quindi in pratica si coprivano a vicenda un'intera famiglia di depravati. Come abbiamo detto questi studenti spesso vivevano nel dormitorio della scuola quindi si svegliavano a scuola, studiavano a scuola e invece di tornare a casa rimanevano a scuola. Non potevano parlare con nessuno e quasi tutti i professori ovvero le uniche persone con cui avevano a che fare erano coinvolte in qualche modo. Letteralmente era un inferno. Alla fine la questione raggiunse media è stato allora che finalmente la nazione ha iniziato a conoscere il caso e la polizia ha deciso di intervenire e fare qualcosa ma prima che ciò accadesse ci sono volute proteste contro la scuola. Alcuni insegnanti ovviamente non convolti hanno protestato. Gli insegnanti che hanno deciso di chiedere aiuto e di parlare contro la scuola sono stati di punto in bianco licenziati. In Corea ha un grande tabù essere licenziati se si è un insegnante. Si rischia di non ottenere mai più lavoro. Ovviamente anche Chong è stato licenziato. Dopo il primo ciclo di indagini sono stati individuati sei sospetti tra cui il preside e il capo amministrativo e sono state trovate nuove vittime che hanno deciso di farsi avanti. Ovviamente si ritiene che il numero di vittime sia più alto ed è così difficile convincere alcune persone a confessare e a presentarsi ai processi e a tutto il resto. Servono testimoni e un sacco di prova a sostegno. Questo è già di per sé spaventoso. Non oso immaginare questi bambini disabili magari senza nemmeno i genitori che stavano letteralmente vivendo in questa scuola come facevano a farsi avanti. Il processo si concluse con la condanna del preside a due anni e sei mesi di prigione. Il direttore amministrativo della scuola che era noto per essere il peggiore ha ricevuto solo otto mesi di prigione. Un altro insegnante ha ricevuto solo dieci mesi di prigione e altre persone complici perché hanno coperto la cosa come la moglie del preside ad esempio non sono state mai nemmeno punite. Tra l'altro la maggior parte dei condannati è stata per giunta rilasciata con la condizionale. La legge all'epoca era diversa. In Corea del Sud il reato di violenza sessuale era considerata un'accusa indipendente piuttosto che un crimine federale. Quindi affinché la polizia potesse indagare le vittime dovevano denunciare personalmente i sospetti. La polizia o il governo non potevano indagare autonomamente. Naturalmente al giorno d'oggi è un crimine federale come potrete immaginare. I pubblici ministeri hanno ovviamente spinto per l'accusa di reato ma i giudici hanno deciso che gli studenti anche se disabili erano in grado di lettare e di respingere il sospettato con un gesto della mano o qualsiasi altro tipo di gesto con il corpo che indicava che erano abbastanza consci e che erano consapevoli della situazione. Tutto ciò è assolutamente assurdo e mi fa assolutamente ghiacciare il sangue. All'epoca crimini del genere potevano essere mediati tra le due parti. Supponiamo che decida di mediare con la famiglia della vittima visto che gli studenti erano minorenni. Offrirebbero loro del denaro in cambio del perdono magari poche centinaia o poche migliaia di euro. A questo punto le accuse cadrebbero visto che non si tratta di un crimine federale. Alcuni familiari hanno accettato questo patteggiamento e si sono accordati con i sospettati quindi il numero di vittime che gli accusava è sceso e anche per questo motivo che hanno ricevuto una pena così lieve. Nel 2011 grazie al rinnovato interesse dell'opinione pubblica per il caso dopo l'uscita del film viene chiesto se si indagasse nuovamente nel caso per decidere pene più severe ai colpevoli. Tuttavia la possibilità di un nuovo processo era piuttosto remota a causa del principio della doppia incolumità secondo il quale i casi in cui il tribunale ha già emesso la sua decisione una volta non possano essere riaperti. In seguito a ciò nell'ottobre dello stesso anno venne approvata dall'assemblea nazionale una revisione della legge che regola questi crimini in asprendo le pene per chi abusa bambini, adolescenti o disabili ed è stata denominata la legge Dogani proprio in onore di quel film. Questo è un esempio di come la letteratura e il cinema possano scuotere la coscienza ed avere un forte impatto nella società. Il film come vi dicevo ha delle scene veramente difficili da vedere se siete persone sensibili e onestamente mi preoccupa anche come si possano essere sentiti i bambini attori che hanno dovuto girare certe scene spero che abbiano avuto il giusto supporto psicologico però sicuramente è stata un'opera di grande valore o perlomeno di denuncia. Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto vi chiederei di lasciare un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video